Pazzesco come anche i Pokémon abbiano mantenuto un trend fortissimo No, era il brand più redditizio del mondo Redditizio in che senso? Cioè nel senso a livello monetario Sì, che fattura di più in tutte le licenze che ha, in tutte le robe Il brand numero uno Pazzesco, anche la felpa che hai tu adesso è dei Pokémon Calcola che il fatturato che fanno dei giochi, che è da dove è nato Pokémon, è il fatturato più piccolo Pensate cosa sono riusciti a creare dopo